Un saluto a tutti Ciao a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Come di consueto, prima di iniziare, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiozzolarossinitv.it. Come sempre vi ricordo che potete inviarci foto, potete inviarci video, semplici messaggi di testo oppure messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp. Ma iniziamo subito con la prima notizia, ed è una notizia di cronaca riguardante il caso di Marco Truffi. Il 44enne originario di Vallefoglia ha trasferito da tempo in Germania e per il quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa. Purtroppo l'uomo è deceduto oltre un anno fa e i parenti non ne avevano mai avuto una comunicazione. Il sindaco di Vallefoglia, Palmirochielli, ha espresso nel suo commento su quanto accaduto spiegando i dettagli noti fino ad ora. Vediamo il servizio. Ha avuto un triste epilogo la scomparsa di Marco Truffi, 44enne originario di Vallefoglia, trasferitosi all'estero da diverso tempo, per il quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa, rivolgendosi anche alla trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto. L'uomo è morto negli ultimi mesi del 2019 e la notifica del decesso era stata inviata circa un anno fa prima alle comune di Urbino e poi a quello di Vallefoglia. Di quanto scoperto dall'ufficio anagrafe di Vallefoglia, però, pare non fosse a conoscenza la famiglia della vittima, che dopo gli appelli alle ricerche ha dunque ricevuto la tragica e inattesa notizia. Poco chiara ancora la dinamica dei fatti che avrebbe portato all'omesso avviso dei parenti. Il problema potrebbe risalire alla mancata comunicazione nei confronti dei familiari da parte delle Consolato, ma per avere certezza e per approfondire sia le cause del tragico disuito, sia il ritardo con cui l'avviso di morte è sopraggiunto ai due comuni rispetto alla data del decesso, ci sarà bisogno ancora di tempo, come affermato anche dalle sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Intanto è un dolore per l'intera comunità, non solo per la famiglia. Il Consolato aveva comunicato al Comune di Urbino, essendo lui nativo di Urbino, diciamo dopo sei mesi della morte, perché la morte risale al settembre 2019, comunicò febbraio, cinque o sei mesi dopo della morte. Ovviamente comunicandolo al Comune di Urbino, il Comune di Urbino a noi, si dava certamente per scontato che la prima cosa che il Consolato abbia comunicato, non si capisce se l'ha comunicato, ma pensiamo di sì, alla famiglia e poi ai comuni, insomma. Le reazioni sono state della famiglia, della sorella, perché la madre ha perso anche il marito, quindi il padre era già morto da diversi anni, di incredulità, perché sulla base di questa verifica che io ho fatto fare all'anagrafe, e il risultato appunto che era defunto. Io gli ho detto guarda che a noi risulta così, ma dice a noi non c'è detto niente a nessuno, non so cosa è successo, se il Consolato l'ha comunicato alla madre e poi la madre non l'ha... Non lo sappiamo, questo è tutto da verificare. Adesso stanno vedendo come fare per eventualmente riportare la salma, perché devono dire ad Hannover dove è sepolto e come fare, si sta interessando la famiglia per vedere se è possibile riportarlo, diciamo, nei cimiteri nostri della città di Vallefoglia, credo, comunque deciderà la famiglia dove. E continuiamo con un fatto accaduto martedì sera, quando un'abitazione situata in via Madonna dell'Arena a Montecchio ha purtroppo preso fuoco. Il titolare dell'abitazione, Paolo Girolamoni, uscito indenne assieme alla moglie Milva, ha parlato ai nostri microfoni di quanto accaduto. La situazione è tragica in realtà, c'è una casa che abbiamo fatto con tutto il lavoro di una vita praticamente. Niente, in rischio ci siamo accorti verso le sette che uscivano le fiamme da sotto alla grondaia, perché c'è un tetto ventilato in legno. Probabilmente i pompieri hanno detto che si è innescato l'incendio da una canna fumaria. Quanto ci si accorge che il fuoco è sotto, vuol dire che già il tetto è completamente bruciato. Quindi abbiamo chiamato i pompieri, però hanno fatto quello che hanno potuto. L'hanno spettato nel giro di un paio d'ore ed è stato impegnativo. Il problema grosso adesso è l'acqua e i danni che ha fatto, perché trasludono tutti i solai, tutto il catrame, l'acqua catramata, perché poi il catrame di copertura scende tutto, ha sporcato tutto, pavimenti distrutti, immobili è distrutta, adesso vediamo un po'. La cosa più importante è che tutti voi state bene. Sì, sì, effettivamente sì. Nella disgrazia ci è andata bene sotto quel punto di vista lì. E nella mattinata di giovedì 18 marzo, anche il sindaco di Vallefoglia, Palmirocchielli, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha aderito alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, istituita per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa delle Covid-19. Per l'occasione, il sindaco, alle ore 11, ha indossato la fascia tricolore e ha osservato un minuto di raccoglimento all'ecospetto della bandiera italiana esposta a mezzasta. Con questo gesto, in tutti i tali si è voluto imprimere un segnale di fiducia, di speranza e di vicinanza a chi ha pagato un alto tributo e chi è ancora fortemente provato dalla scomparsa di persone care. E ora invece andiamo alla scoperta di un'azienda eccellenza del nostro territorio, Little Service, che ha sede a Talacchio, è ormai una realtà consolidata e leader nel settore degli accessori del legno, dell'industria e delle mobile. Una realtà nata dal suo fondatore, Nino Pizza, è guidata oggi dal suo figlio Lorenzo, che ce ne parla in questo servizio. Allora, l'azienda, come hai detto tu, è nata nel 1997, l'ha fondata mio padre, Nino Pizza, che ha avuto una grandissima intuizione di accoppiare la facciata del pannello con il medesimo bordo. Poi dopo, negli anni, l'azienda si è sviluppata, si è ingrandita, ha avuto un percorso di un'evoluzione importante e quindi dal 1997 siamo arrivati al 2021 con un'azienda che ormai conta un fattorato importante, sia a livello italiano che a livello europeo, con un'occupazione notevole e quindi un'azienda in continuo sviluppo e in continuo evoluzione. Diciamo che noi siamo molto contenti e molto soddisfatti di quello che stiamo facendo, anche perché per noi siamo ormai diventati una garanzia per il settore proprio del mobile, per i nostri clienti, lavoriamo con i maggiori competitor a livello di produzione di mobili e quindi diciamo una realtà che non a detta nostra, ma a detta degli addetti ai lavori e di tanti nostri clienti, nonché a fornitori, è molto molto importante. Tu stessa hai parlato di evoluzione, la si può vedere anche qua in azienda, tutto nuovo, anche rifatto, la zona degli uffici, proprio moderna. Sì, sì, assolutamente. Noi puntiamo molto sull'immagine, ma anche sulla concretezza al di là degli uffici, il blocco uffici che comunque abbiamo ristrutturato, l'abbiamo allargato anche perché avevamo bisogno, in quanto abbiamo assunto anche più persone, più personale per sviluppare il lavoro. Anche in fabbrica abbiamo implementato i nostri macchinari con macchinari di ultima generazione, quindi votati anche al 4.0, quindi con delle agevolazioni, proprio perché sono macchinari innovativi, macchinari di ultima generazione, e quindi tutti i mercati CE. E quindi questo, diciamo che in questa fase, in questo momento congiunturale non semplice, fa la differenza. Perché quando poi tu investi, e come diceva mio padre, bisogna investire sempre nei momenti di crisi, perché poi quando il mercato riparte, quando poi le opportunità si propongono, e allora devi essere pronta a coglierle. E noi abbiamo fatto questo. Una domanda è d'obbligo sulle periodi, ormai è un anno di questa pandemia, anche tu hai parlato di rapporti con l'estero, come si è evoluto sia il lavoro qua in azienda, ma anche poi con l'export. Assolutamente sì, è stato un periodo, ed è un periodo molto difficile. Noi fortunatamente, proprio per il motivo di cui ho parlato prima, il fatto di aver investito tanto, ci siamo difesi, ci stiamo difendendo, però ecco, ci auguriamo tutti che passi il prima possibile, perché poi questo momento difficile, da un punto di vista sanitario, che è la prima cosa la più importante, ha un riflesso anche molto importante, da un punto di vista lavorativo. Abbiamo fatto tanta cassa integrazione l'anno scorso, i nostri dipendenti per periodi, purtroppo non hanno potuto lavorare, non sono potuti venire in azienda, quindi ecco, la speranza è che si allenti il prima possibile questo, per ripartire, sia a livello nazionale come mercato interno, ma sia a livello internazionale, perché una cosa importante è che noi siamo leader del mercato interno, in quanto ormai deteniamo il 40%, 35-40% della quota del mercato nazionale italiano, quindi rappresentiamo questo nel mercato del burdo in Italia, però ci stiamo spingendo anche all'estero, perché abbiamo capito che comunque non potevamo solo lavorare in Italia, quindi adesso abbiamo preso anche dei commerciali esteri, e quindi è importantissimo che questa situazione si risolva nel binor tempo possibile per cercare di ripartire alla grande. E nonostante ormai siano passati più di 10 giorni da quando è stata emessa la zona rossa, anche a Vallefoglia sono leggermente cresciuti i casi di contagio da Covid-19, un aumento che ha fatto sì che l'amministrazione comunale abbia deciso tramite un'ordinanza condivisa di chiudere tutti i parchi e i giardini pubblici. Vediamo il servizio. Ma allora, io penso che in attesa dei vaccini, e speriamo che si chiarisca tutte queste vicende dei vaccini, e si possa passare ad un lavoro a tappeto dei vaccini che devono essere fatti nei luoghi di residenza, quindi speriamo che si facciano negli ambulatori, e non più questa telenovela di spostare su Peso, Rubino e Fano da tutti gli resti dei comuni della provincia. La regione Marche, e quindi anche la provincia di Peso, Rubino, è una situazione molto difficile, nel senso che gli ospedali sono pieni, i prodotti di soccorso sono in difficoltà, aumentano i contagi, e quindi bisogna fare quello che c'è scritto nel provvedimento, per quel che riguarda le zone rosse, vuol dire uscire solo ed esclusivamente per rifornimento di alimentare, per ragioni di salute, e per lavoro. Per il resto bisogna stare in casa. Noi abbiamo fatto un'ordinanza sulla base di un orientamento della Giunta di ieri pomeriggio, in cui vietiamo l'utilizzo dei parchi, dei giardini, delle aree, perché c'è una movimentazione di persone che tende a far aumentare i contagi, quindi bisogna stare attenti. Se si vuole uscire da questa vicenda del Covid prima dell'estate, vuol dire che almeno adesso, fino alle feste di Pasqua, bisogna uscire per le strette necessità, che sono appunto quelle del lavoro, dell'alimentazione, e se uno ha problemi di salute, se no bisogna cercare di stare a casa. Se vogliamo salvare la pelle, e se vogliamo far sì che quando arrivano i vaccini, che si possono fare rapidamente a tutti, e quindi ci sarà l'immunità di gregge, si salveranno anche coloro che non fanno i vaccini. Io credo che il vaccino dovrebbe rendere obbligatorio e tutti dovrebbero fare il vaccino, perché se io non lo faccio contagio un altro, quindi commento un reato secondo me, anche se dice che non è obbligatorio, e quindi spero che quanto prima si possa concludere questa vicenda. Invitiamo per una settimana di evitare di andare nei parchi a fare assembramenti, non fate assembramenti nella maniera più assoluta, e poi se tra una settimana c'è un calo dei contagi, revocheremo anche l'ordinanza. E proprio in questi giorni sono terminati a Montecchi i lavori di ristrutturazione della rotatoria in via 25 Aprile, in incrocio con via Mozart, che hanno interessato il rifacimento della pavimentazione in esselciato danneggiata nelle tempo con il passaggio continuo dei mezzi pesanti. Il lavoro è consistito nella realizzazione di una nuova pavimentazione con cemento industriale per rendere il tappeto stradale più duraturo nelle tempo e ha richiesto anche la posa in opera di nuovi cordoli. L'intervento, eseguito dalla ditta Fratesi Paolo Escavazzini di Vallefoglia e l'importo della spesa, finanziata interamente con mezzi propri di bilancio, è risultato pari a circa 7 mila euro. E qualche settimana fa, il consigliere comunale di centro-destra per Vallefoglia, Paolo Borleng, aveva richiesto un incontro pubblico sulle tema delle biodigestore. Un invito che è rivolto inizialmente a Green Factory, l'associazione Diversemente e l'amministrazione comunale non ha però portato alla risposta desiderata. Lo stesso Borlenghi però ha rilanzato per un nuovo incontro nell'interesse dei cittadini. In questo momento possiamo dire che sono al terzo invito perché nei due precedenti ho avuto risposte da parte di Green Factory però sempre diverse, sfuggendo quindi alla volontà reale di fare un dibattito. Da parte dell'associazione Diversemente sto ancora cercando di avere una risposta scritta, concreta, su quello che vogliono fare. Quello che a noi dispiace, anzi delude molto, è che queste parti, sia l'associazione sia Green Factory, dicono che sono disponibili al confronto, ma questo ha parole, bisogna tradurre queste parole in concretezza e questo non sta avvenendo. La nostra popolazione ha bisogno di sapere. Quello che poi, se vuole, ci fa anche arrabbiare è che l'amministrazione comunale, di fronte al fatto che il convungimento della gente è essenziale nella trattazione di un argomento di questo tipo, non fa niente. L'unica cosa, loro si erano impegnati ad ottobre con una mozione che è stata approvata, che chi vuole gliela mando, dove loro dicevano espressamente che si impegnavano nella più ampia informazione e partecipazione istituzionale e sociale. Ecco, di tutto questo si è tradotto con una videoconferenza a dicembre, dopodiché non è più successo niente. Noi siamo disponibili anche a fare un passo indietro a che organizzino loro questo dibattito. Tra l'altro gliel'abbiamo anche chiesto a gennaio con un'interrogazione. Perché non lo fate voi? Loro hanno detto, noi abbiamo già fatto a dicembre. Ecco, questa è la posizione della nostra amministrazione, la sensibilità. E noi siamo ancora fiduciosi che le due parti, sia Green Factory che l'associazione diversamente, vogliano sedersi a questo tavolo, perché questo è dovuto alla gente. Dobbiamo rispetto alla nostra gente. Non possiamo distaccarci da questo. E ora una bella notizia, perché la città di Vallefoglia ha ottenuto per l'anno 2020-2021 il riconoscimento di città che legge, come simbolo di promozione e diffusione della lettura su tutto il territorio. L'amministrazione comunale, proprio in questi giorni, ha approvato un e-patto dedicato alla lettura, finalizzato come uno strumento di crescita sociale e culturale per tutta la città. Lo scorso anno abbiamo ottenuto riconoscimento partecipando al bando di CEPEL, il centro per il libro e la lettura, di città che legge. Questo riconoscimento che abbiamo per il 2020-2021 l'abbiamo ottenuto grazie alla nostra tradizione ultra quarantennale della mostra del libro per ragazzi per le attività finalizzate alla lettura che l'amministrazione ha svolto in collaborazione con gli istituti scolastici e le biblioteche del territorio. Questo riconoscimento ci consente di partecipare a bandi e a progettualità dedicate. Ad esempio, in questo momento stiamo lavorando appunto ad un bando che scade a fine mese, destinato alla diffusione più capillare dello scambio di libri sul territorio, quindi anche al di fuori delle biblioteche, e a progettualità legate ai soggetti fragili, laddove, ad esempio, la lettura ad alta voce è uno strumento di comunicazione e condivisione. e progettualità dedicate alle scuole che vorremmo appunto presentare è una cosa molto carina, si chiama una città da favola che coinvolge i più piccolini, quindi scuole dell'infanzia e primarie. Il patto è uno strumento che è necessario a tal fine perché è necessario coinvolgere tutti i soggetti privati e pubblici del territorio che, diciamo, fanno parte di quella che è la filiera culturale ed educativa del territorio. Questo patto diventa uno strumento di governance indispensabile per promuovere, condividere, progettualità con tutti i soggetti del territorio. Per quanto riguarda le scuole, ormai sono più di dieci giorni che tutte sono chiusi in questo momento. Com'è la situazione se hai sentito, non so, presidi, anche genitori di bambini? Diciamo, ho sentito i dirigenti scolastici, le scuole, grazie a Dio, in quest'anno si sono attivate, e quindi lo strumento, l'unico strumento possibile della didattica a distanza funziona. La difficoltà, ovviamente, è tenere i bambini a casa perché la didattica a distanza non è scuola, non è condivisione e quindi la difficoltà dei bambini sicuramente, ma anche delle famiglie perché poi devono conciliare il lavoro con l'esigenza di stare con i ragazzi. E quindi la situazione è difficile, e speriamo che questa situazione si risolva quanto prima. Ed era questa l'ultima notizia del nostro Vallefoglia Magazine. Io vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo, il 26 di marzo, e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.